Ben trovati al consueto appuntamento con Telebelluna Agenda. Vediamo ora insieme qualche appuntamento previsto per venerdì 10 maggio. Prende avvio nella serata di venerdì un ciclo di tre incontri dedicati alla conoscenza del cane, del gatto e del lupo, con approfondimenti su leggi, rispetto e salvaguardia organizzate dall'Associazione Siamo Tutti Animali, con la collaborazione del Comune di Limana. Il primo appuntamento intitolato Animali, definizioni, benessere e normativa avrà luogo nella sala Nocivelli della Biblioteca di Limana alle ore 20 e 30. Vediamo ora insieme un'anticipazione prevista per sabato 11 maggio. Restiamo sempre nell'ambito degli appuntamenti della settimana antispecista dedicata agli animali e nel tardo pomeriggio di sabato alle ore 18 l'organizzazione Siamo Tutti Animali ci parlerà del ruolo che hanno avuto gli animali di specie diverse nel corso dei conflitti del genere umano dall'origine ad oggi. L'incontro sarà cura della professoressa Corsani-Shiller e si terrà presso la libreria Le Due Zitelle di Belluno. Vediamo infine un appuntamento previsto per domenica 12 maggio. Continua nella serata di domenica la 32esima edizione del Maggio Teatrale Zumellese che proseguirà sino al 25 maggio. Gli spettacoli realizzati con l'organizzazione del gruppo teatrale Zumellese si terranno al centro San Felice di Tricchiana. Per quanto riguarda il primo weekend, domenica 12 alle ore 17.30 andrà in scena lo spettacolo per i bambini Il Gatto con gli stivali con la partecipazione del cast Anatema Teatro del Comune di Osoppo a Udine. Abbiamo così concluso questo nostro momento dedicato a Tele Belluno Agenda. Se anche voi avete eventi o iniziative che desiderate rendere noti potete farlo contattandoci direttamente in redazione o attraverso la nostra mail promo-telebelluno.it Grazie e arrivederci!